C'è un problema relativo ad una macchina, un attimo d'attenzione, non c'è il modello, però il proprietario della macchina targata CK467LV952906489751428391004586 può lasciare la macchina ma è pregata di spostare la targa perché dà fastidio. Grazie a tutti. Erano le 5 in punto della sera, un ragazzo portò il bianco lenzuolo alle 5 della sera, una sporta di calcio è preparata alle 5 della sera e tutto il resto era morte, solo morte. Alle 5 della sera, l'ovatta fu portata via dal vento, alle 5 della sera l'ossido semina a cristallo e a nickel. Alle 5 della sera, che poi è tardo pomeriggio.